Non arretra il primario di ortopedia di Venafro Enzo Bianchi che chiede la chiusura del reparto e il suo trasferimento al veneziale di Isernia, continuando a minacciare il blocco dei ricoveri se le cose non dovessero cambiare. In prefettura Campobasso incontro per stabilire i modi e la via da seguire per completare la ricostruzione entro il 2018. Il rinnovo del contratto sarà fatto solo a chi ha le competenze e le professionalità richieste dall'ultima tranche della ricostruzione. Scade a fine mese il contratto di lavoro per 80 maestranze nel settore delle pulizie e nelle scuole della regione, preoccupazione e incertezza tra i lavoratori che lunedì incontreranno l'assessore Petraroia. Serie D, le molisane continuano la preparazione in vista della quinta giornata di campionato. In casa Pentra sfuma l'arrivo della punta classe 94. Eccellenza tra gli anticipi della quinta giornata con gli occhi puntati sulla capolista Campobasso impegnata sul campo del Montaquila. Uno solo invece in promozione. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito dai titoli in apertura la sanità. Hanno deciso che l'ospedale di Venafro diventi un cronicario. Ortopedia si trasferisce ad Isernia perché così prevede la normativa. Il primario di ortopedia del Santissimo Rosario Enzo Bianchi dopo aver minacciato il blocco dei ricoveri spiega le sue ragioni ai nostri microfoni. Sentiamo. Meglio chiudere a Venafro e trasferire tutto a Isernia. Con queste parole aveva esordito solo due giorni fa il primario di ortopedia a Venafro nonché primario di ortopedia di Termoli Enzo Bianchi. Una frase d'effetto che oltre alla polemica aveva suscitato taluni dubbi su una gestione quasi monopolistica del comparto ortopedico in Molise. Ma su quella frase Bianchi è tornato nuovamente spiegando ai nostri microfoni come tutto sarebbe scaturito dalle gravi condizioni in cui versa il nosocomio pentro. Il nostro ospedale in questo momento, questo Santissimo Rosario, versa in pessime condizioni. Mangano servizi, mangano i livelli minimi assistenziali. Che significa con ciò? Che un reparto di chirurgia, un reparto di ortopedia chirurgico non può continuare ad esistere senza, non di una rianimazione, ma una terapia intensiva. Ci vogliono i supporti a questo modo di fare. Ci vuole un pronto soccorso all'altezza della situazione. Ci vuole una garanzia del chirurgo generale presente. Una presa di posizione dura, quella di Bianchi, che non si è risparmiato nemmeno nell'elencare altre criticità. Ci vogliono i cardiologi che in questo momento e in questa precisa settimana non vengono più né a refertare né a controllare i nostri pazienti. Ma proprio sul pronto soccorso il numero uno dell'ASRE, Mangelo Percopo, ha rassicurato gli animi e tranquillizzato lo stesso Bianchi su una immediata risoluzione. Già a partire dalla prossima settimana dovrebbe essere rinforzato il personale medico infermieristico del Santissimo Rosario. Bianchi continua però a marcare stretto e dopo aver messo tutto nero su bianco in una missiva indirizzata alle istituzioni e dopo aver anche minacciato di voler rimettere il suo mandato nelle mani dell'azienda sanitaria, si dice pronto a portare avanti la tesi che vedrebbe proprio la chiusura del reparto di ortopedia Venafro. Il toro normalmente si prende per le corna. O lo prendiamo decisamente in questo modo la situazione o se no continueremo sempre ad andare avanti con i gettoni, con i costi aggiuntivi e così via. L'ortovedia va intesa come una branca chirurgica e deve andare dove la normativa nazionale, non le varie amministrazioni decidono, la normativa nazionale che con le varie riforme sanitarie ha deciso che SNC fosse un dipartimento di emergenza di primo livello e allora un dipartimento di emergenza del primo livello necessita un discorso chirurgico anche per quanto riguarda l'ortovedia Venafro. Le scelte che hanno fatte non sta a me dire chi come quando hanno deciso che questo ospedale deve diventare un cronicario e allora ai posti di la tua sentenza. E mentre il dibattito è sempre più acceso sul tema sanità sembrerebbero esserci buone notizie per il pronto soccorso di Isernia. Sono in arrivo due nuovi infermieri che dovrebbero unirsi agli undici già operativi. Sentiamo. Le proteste del primario facente funzioni del pronto soccorso di Isernia, Lucio Pastore, sembrano aver prodotto i primi risultati. Il dirigente dell'ASREM, Percopo, avrebbe infatti garantito l'imminente innesto di due infermieri. Nei giorni scorsi Pastore aveva evidenziato come rispetto ad una pianta organica di 22 unità, ne sono concretamente operative soltanto undici, facendo emergere ancora una volta la situazione di criticità in cui il reparto opera. Evidentemente nella sua recente ricognizione a Venafro e Isernia, il dirigente dell'ASREM, Percopo, ha constatato le difficoltà concrete che le due strutture si trovano a dover quotidianamente affrontare. Tanto che anche a Venafro dovrebbe essere ripristinato il servizio di pronto soccorso con l'arrivo di nuovi medici, infermieri e rianimatori. Certo è che il tema salute pubblica in relazione ai tagli e alle trasformazioni previste dal piano sanitario regionale continua ad essere predominante, soprattutto nel capologo Pentro. Basti pensare che nelle ultime settimane sono nati due comitati di cittadini pro-Veneziale che puntano quantomeno a salvaguardare i livelli minimi di assistenza, favorendo il dibattito anche in termini più generali sul rapporto sanità pubblica e sanità privata. Su scala nazionale infatti la media della ripartizione è rispettivamente di un 80 ed un 20%. Il piano sanitario regionale molisano sarebbe da questo punto di vista non allineato con il trend nazionale, infatti la quota di sanità privata supererebbe abbondantemente il 30%. Il dibattito si è appena aperto, lo scopo ultimo dei movimenti spontanei e quello di una rimodulazione del piano che tenga conto delle specifiche esigenze dei vari territori e delle rispettive comunità. L'impresa è decisamente delle più ardue. Il presidente del Molise Paolo Di Laura Frattura, che ha presieduto la conferenza delle regioni, ha illustrato al governo una posizione critica rispetto ad un esecutivo che disattende le richieste delle regioni e procede a tagli orizzontali indiscriminati alle dotazioni ministeriali che nella fattispecie vanno a colpire fondi sociali. Ci occupiamo ora della vertenza dei precari dell'Agenzia di Protezione Civile far ripartire la ricostruzione post-sisma fino al prossimo 2018 con le risorse e le professionalità necessarie. Questa è la strada tracciata durante il vertice di questa mattina convocato in Prefettura. Intanto a sottolineare i gravi ammanchi prodotti nelle casse dell'Agenzia negli anni precedenti, ancora una volta il neodirettore Mastro Berardino. Sentiamo. Un incontro decisivo quello di questa mattina in Prefettura a Campobasso per far luce sulla delicata vicenda degli oltre 200 precari dell'Agenzia regionale della Protezione Civile. Seduti al tavolo del Palazzo di Governo i sindacati, la delegazione parlamentare molisana del PD, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile Mastro Nardi, unitamente alla Regione Molise, rappresentata dal consigliere delegato Salvatore Ciocca e dall'assessore Michele Petraroia. Intento del vertice è quello di tracciare la strada circa i modi per far ripartire la ricostruzione post-sisma, almeno fino al prossimo 2018. Dobbiamo valutare esattamente le professionalità necessarie. Ci sarà un metodo, un metodo che sia valido per tutti, un metodo che verrà ricercato e ritrovato insieme ai sindacati. Noi non vogliamo assumerci degli oneri che non meno ci competono, però dobbiamo garantire che se servono 10 ingegneri saranno 10, faccio un numero a caso, se servono 15 architetti saranno 15. Non è detto che poi diventano 16 o 17 quando avremo altre possibilità. Il tutto deve essere, ripeto, per l'ennesima volta strumentale assolutamente soltanto alla conclusione di ogni iter, perché dopo 12 anni non possiamo stare ancora a parlare di che cosa fare, ma dobbiamo farlo. Sui numeri dei contratti che potranno essere prorogati bisognerà invece riflettere su quelle che sono le esigenze e le competenze richieste dal percorso che dovrà essere attuato. Per chi non dovesse rientrare, tra i fortunati la Regione sta provvedendo a una programmazione delle risorse che contempli anche gli ammortizzatori sociali. Il tutto non toglie la possibilità che se ci saranno nuovi finanziamenti aggiuntivi, perché io anche questo devo precisare, prendere quote all'interno dei 346 milioni significa fare meno ricostruzione, quindi nel momento in cui ci saranno nuovi fondi, nuovi finanziamenti, noi rivedremo il quadro. Intanto se si spera in ulteriori fondi in arrivo da Roma tali da poter far rimodulare il percorso tracciato, i conti nella sede di via Sant'Antonio Abate continuano a non tornare, soprattutto al direttore Mastronardi che, come aveva già segnalato ai nostri microfoni, anche nella riunione di questa mattina è tornato a parlare dei gravi ammanchi prodotti nelle casse dell'Agenzia durante gli anni precedenti. Cambiamo argomento, uno spiraglio positivo per il Molise delle Vertenze giunge dal governo nazionale, secondo il quale ci sarebbero i presupposti per avviare la procedura di riconoscimento dell'area di crisi per alcune zone del Molise. Sentiamo. La crisi economica sta letteralmente decimando le aziende molisane e di fondamentale importanza diventa la possibilità di attivazione da parte del governo nazionale della procedura per il riconoscimento dell'area di crisi per alcune zone del Molise. Buone nuove giungono da Roma con il verbale di riunione del 30 gennaio 2014 redatto dall'unità di crisi del Ministero dello Sviluppo. Il governo ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di legge per attivare tali procedure, tenendo conto di medesime azioni già fatte per altre zone d'Italia. A renderlo noto il vicepresidente della regione, Michele Petraroia, che ha chiarito le modalità di intervento per avviare il confronto con le parti sociali. Le strutture regionali già impegnate nelle istruttorie preliminari sul riconoscimento dell'area di crisi, ha puntualizzato l'assessore Petraroia, metteranno a disposizione delle rappresentanze economiche e produttive il lavoro avviato, con l'obiettivo di agevolare un percorso condiviso sull'attivazione di uno strumento di politica industriale finalizzato al riassorbimento dei lavoratori espulsi dalle filiere in crisi del tessile, dell'alimentare e del settore metalmeccanico. Saranno due le opzioni tecniche su cui avviare il confronto con le parti sociali in Molise. La prima riguarda la sola area di Pettoranello del Molise e dunque legata alla crisi dell'azienda a tessile ITR. La seconda riguarda l'ipotesi di un accordo di programma che coinvolge anche la filiera vicola e l'indotto metalmeccanico, riproponendo il territorio già inserito nel contratto d'aria a Molise interno, che si estende da Sesto Campano a Trivento e da Guardiareggia a Campochiaro a Venafro. Depositata a Roma presso la Corte di Cassazione una proposta di legge e di iniziativa popolare da parte dell'Italia dei Valori. Obiettivo dell'iniziativa l'istituzione di un albo dei beni confiscati alla mafia e la possibilità di poter venderli se entro tre mesi dalla confisca nessuno fra regioni, comuni e associazioni ne faccia richiesta di utilizzo. Da domani annunciato il segretario regionale IDV Cristiano Di Pietro, l'Italia dei Valori inizierà a raccogliere le firme in tutta Italia e anche in Molise. Chiederemo ancora una volta ai cittadini di darci una mano a condividere la nostra proposta. Ottanta maestranze del settore delle pulizie che lavorano nelle scuole molisane, gli ex LSU, rischiano di perdere il posto di lavoro per Italia al personale imposti dal Ministero. Il loro contratto scade a fine febbraio. Intanto l'assessore Petraroia si è subito attivato promuovendo un incontro urgente con lavoratori e sindacati il prossimo lunedì. Sentiamo. In Molise altre 80 persone rischiano il posto di lavoro, altri lavoratori con il contratto in scadenza e sono le maestranze del settore delle pulizie che lavorano nelle scuole molisane, gli ex LSU che da marzo potrebbero restare a casa per i tagli al personale alle ore imposti dal Ministero della Pubblica Istruzione che così facendo peggiorerà nei fatti la qualità e la salubrità degli ambienti scolastici. Il Ministero ha deciso di tagliare ulteriormente le risorse, ha deciso di fare nuovi appalti e ovviamente a ribasso. Ciò significa in tutta Italia rimettere in discussione 18.000 persone che dal 1995 erano stati dichiarati stabilizzati allo stesso Ministero e per i Molise significa almeno 80 famiglie che andranno in difficoltà. Quindi noi ci siamo non solo allarmati ma abbiamo chiesto anche alla dirigenza regionale, poiché le scuole sono in Molise, quindi è giusto che se parliamo di salubrità degli ambienti, se parliamo di una scuola efficiente, c'è bisogno che quelle scuole e quegli ambienti siano, perché sono presenti in Molise, efficienti in Molise, abbiamo chiesto all'assessorato competente, a tutti gli organi e anche ai provveditorati di incontrarci. L'incontro ci sarà lunedì prossimo presso l'assessorato al lavoro a Campobasso. Le 80 maestranze saranno ricevute dall'assessore a ramo Michele Petraroia che insieme ai sindacati della CGL CISL si adopererà al fine di scongiurare il loro possibile licenziamento. Poco fa, mezz'ora fa, è arrivata la convocazione da parte dell'assessore competente Michele Petraroia per lunedì alle 4 e mezza. Ci auspichiamo che da quel tavolo escano fuori delle soluzioni. Per salvaguardare le 80 famiglie servono pochi soldi, di differenza tra quello che il Ministero ha tragliato e quello che la Regione, le province e i comuni possono fare per garantire qui, in questa Regione, l'efficienza delle scuole. L'avvertenza degli ex LSU è approdata anche al Ministero della Pubblica Istruzione a Roma. L'altro ieri è partita una lettera nei confronti del Presidente del Consiglio e nei confronti del Ministro della Pubblica Istruzione su questo problema. Affirma dei tre segretari generali della Camusso, di Bonanni e di Angeletti. Quindi tutta l'organizzazione sindacale è attenzionata su questi lavoratori. E ci occupiamo ora del trasporto su ferro e dei tanti disagi riscontrati sulla tratta Campobasso-Roma. L'assessore regionale ai trasporti, Pierpaolo Nagni, dopo aver incontrato i vertici di Trenitalia, si è recato a Roma per cercare una soluzione che ponga fine all'odissea dei tanti viaggiatori. Sentiamo. Disagio e disservizi continui per i tanti studenti e lavoratori che viaggiano lungo la rete ferroviaria a Molisana. Una situazione di criticità evidenziata anche dall'ultimo rapporto di Lega Ambiente che ha inserito la tratta Campobasso-Isernia-Roma tra le dieci peggiori d'Italia. Rallentamenti, disagi, vagoni stracolmi, un'odissea sistematica che ormai caratterizza il lungo viaggio verso la capitale. L'assessore regionale ai trasporti, Pierpaolo Nagni, ha incontrato il dirigente regionale di Trenitalia per Abruzzo e Molise. Qui le responsabilità sono molto più del gestore, soprattutto in una situazione di grandi confusioni. Basti pensare che la produzione, quindi i servizi vengono organizzati in Campania, la gestione è dell'Abruzzo, la linea è gestita dalla Puglia. Non si mettono d'accordo fra di loro i schiaffi di prendere il Molise. In questo senso mi riprendo anche con piacere ma spero presto di cambiare le cose. Nessuna buona notizia, nemmeno dall'incontro al Ministero a Roma. Abbiamo anche battuto i pugni sul tavolo, molto più di quello che gli altri immaginano, in una seduta molto molto calda. Le risposte rimangono molto per adesso vaghe. Risultati direi insufficienti. Dovremmo affrontare la questione con l'ingegnere soprano, che è l'amministratore delegato di Trenitalia, ben presto nei prossimi 15 giorni, credo direttamente anche col Presidente della Giunta. Trenitalia lamenta una situazione debitoria nazionale molto forte, che oggi non gli permette di investire in quelle tratte che loro ritengono economicamente non convenienti. E sulle possibili soluzioni l'assessore si è detto pronto anche ad adottare decisioni drastiche. Pensando anche ad una estremizzazione della questione, ma rispetto all'estremizzazione credo dovremo sentire i cittadini. Quindi su questo ci rivedremo, insomma. Estremizzazione niente ferrovie? Beh, è un rischio che si potrebbe anche correre, laddove ci rendiamo conto che buttare 24 minore senza avere servizi non ha nessun senso per il Molise. Nel frattempo anche la minoranza in Consiglio regionale si è messa in moto, presentando una mozione al Presidente della Regione, Paolo Di Laura Frattura. Rieletti i vertici della Confederazione Italiana Agricoltori del Molise nel corso della sesta assemblea elettiva tenutasi ieri. Confermati sia il Presidente Luigi Santoianni che il Direttore Dino Campolietti. Dallo zuccherificio alla filiera vicola, dichiarato Santoianni, in Regione sono tante le questioni irrisolte. Il momento non è facile, ma bisogna guardare al futuro con ottimismo. Santoianni si è anche pronunciato sul nuovo programma di sviluppo rurale che nei prossimi giorni sarà presentato a Bruxelles. Abbiamo partecipato, ha detto infatti, il numero uno della CIA Molise alla concertazione con la Regione e ora ci aspettiamo scelte appropriate che vadano incontro alle esigenze degli imprenditori agricoli. Cambiamo argomento sul sito di Equitalia Attivo, un nuovo servizio telematico che permette ai cittadini di inviare le richieste di sospensione della riscossione delle cosiddette cartelle pazze. Vediamo. Buone notizie per le imprese e i professionisti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Con un semplice clic, accedendo al sito internet www.gruppoequitalia.it, sarà infatti possibile sospendere la riscossione delle cosiddette cartelle pazze. E' quanto previsto dall'emendamento al Decreto di Legge Destinazione Italia, e approvato alle commissioni finanza e attività produttive della Camera. La richiesta online si aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già operative, allo sportello, via fax, via email, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Si può chiedere la sospensione della riscossione direttamente ad Equitalia in caso di annullamento del debito da parte dell'ente creditore, di un pagamento già effettuato o di una sentenza favorevole. La domanda va inviata entro 90 giorni dalla notifica dell'atto per cui si chiede la sospensione. Equitalia sospenderà ogni attività di riscossione e invierà tutta la documentazione all'ente creditore, il quale, verificata la correttezza della documentazione presentata, comunicherà l'esito sia al contribuente sia a Equitalia per l'eventuale annullamento della cartella. Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l'ente creditore non fornirà riscontri, le somme contestate saranno annullate di diritto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet di Equitalia, dove è pubblicata anche una breve guida che illustra cosa fare, in quali casi chiedere la sospensione della riscossione delle cartelle pazze. A Termoli, i consiglieri di opposizione hanno replicato alla presunta archiviazione da parte della Corte dei Conti della loro diffida sul tema delle interrogazioni formulate al primo cittadino e all'amministrazione comunale. Sentiamo. Resta sempre alto il termometro tra posizione e maggioranza presso il Comune di Termoli. Questa volta i consiglieri di opposizione hanno tenuto a precisare in una conferenza come la loro diffida sulle interrogazioni, non risposte dall'amministrazione comunale, non sia mai stata inoltrata da loro la Corte dei Conti, ma benzi come di dovere alla Prefettura. E di come sia stato lo stesso sindaco, in maniera errata, a mettere in mezzo la Corte dei Conti, come confermato da Paolo Marinucci. In realtà qui chi ha interpretato e sbagliato questa interpretazione è lui, perché noi abbiamo fatto tempo fa una diffida chiedendo che lui rispondesse alle interrogazioni e come deve fare. Il prefetto gli ha detto che doveva farlo, però lui non contento ha inviato una risposta alla Prefettura, alla Procura e alla Corte dei Conti, cosa che non avevamo mai minimamente fatto, anche perché sappiamo che la Corte dei Conti non entra in merito a queste questioni. E la Corte dei Conti l'altro giorno ha mandato una lettera in cui dice effettivamente che archivia la questione. Ma cosa archivia? Archivia la sua lettera, cioè la lettera che lui ha inviato alla Corte dei Conti che noi non abbiamo invece mai inviato. Quindi denotiamo nuovamente una superficialità politica, una questione di additare ad altri cose che non fanno. E noi vi abbiamo presentato oggi tutti gli atti, vi abbiamo fatto vedere cosa la Corte dei Conti ha archiviato, il protocollo della lettera di Di Brino. Dunque nessun buco nell'acqua da parte dell'opposizione, ma tutt'altro, cioè un errore procedurale da parte dell'amministrazione comunale che ha chiamato in causa un organo non preposto a risolvere il nocciolo della questione. La strage di Caiazzo, 13 ottobre 1943. Questo il titolo di un libro ridato dal procuratore capo della Repubblica di Sernia, Paolo Albano. Un volume che è stato presentato agli studenti del liceo scientifico Ettore Maiorana di Sernia. Vediamo. Interessante avvenimento si è celebrato presso il liceo scientifico Maiorana di Sernia. Il procuratore capo della Repubblica di Sernia, il dottor Paolo Albano, in omaggio alla giornata della memoria, ha repercorso l'orrore dell'eccidio avvenuto il 13 ottobre del 1943, in cui due militari tedeschi nazisti furono condannati all'ergassolo per aver ucciso 22 abitanti della città di Caiazzo, un paese del Casertano. A questo tragico episodio il procuratore Albano ha voluto dedicare un libro intitolato La strage di Caiazzo, 13 ottobre 1943. Un incontro che ha acceso curiosità tra gli studenti interessati per la vicenda scientifica umana e che ha contribuito non solo a far memoria, ma prima ancora a conoscere i fatti. Quello che mi sembra particolarmente importante è non solo ricordare il passato, ma pensare che su quelle vicende noi possiamo, dobbiamo, vogliamo costruire il nostro futuro, perché sono i valori di chi si contrappose a quelle barbarie, ma anche i valori di chi ha testimoniato nel corso degli anni la necessità di ricordare. Paolo Albano era il magistrato che istruì, per questo ha scritto questo libro, quel processo l'ha portato fino alla fine, sono appunto la testimonianza di un grande valore, di un grande coraggio, di una grande fede nei valori della civiltà, della Costituzione repubblicana e quindi sono un modo per ricordare il passato, ma anche per progettare il futuro, per conservare i valori della Repubblica, per costruire una Repubblica più solida e una convivenza civile che non ci faccia più tornare indietro. A me non sembra poco, sembra più che sufficiente per essere qui stamattina a parlare con i ragazzi. Dopo la pausa, domenica torna in campo la Serie D, con un turno impegnativo per le molisane che continuano a lavorare duro alla ricerca di risultati utili. Il servizio. Il Termoli riparte la sua rincorsa ai piani alti della classifica, dalla trasferta ostica di Fano con l'ultimo acquisto, quello dell'Under, dei Angelis, e con il ritorno tra i convocati di Stefano Mandorino, dopo una interminabile squalifica che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi. Nonostante il centrocampista ex Civitano Vesi abbia i 90 minuti nelle gambe, il mister degli Adriacci sempre ha intenzionato a farlo partire dalla panchina, per non alterare i fragili equilibri della sua squadra. Contro il Fano, un mister Giacomaro ha la possibilità di schierare la formazione tipo, che sarà la stessa dell'ultimo turno di campionato contro la Recanatese. Tutti confermati ad eccezione di La Rosa, che salterà la partita perché squalificato, e il suo posto sarà preso dall'esperto Nigro. Dal Basso Molise passiamo all'alto, dove l'Agnonese sembra essere rinata in questo 2014. Tre risultati utili su quattro per la squadra Granata, che ora credono in di più nella salvezza dopo l'aggancio ai danni del Fano a quota 26. La rinascita Granata passa da una nuova solidità difensiva ritrovata, ma anche attraverso gli innesti di qualità che la società ha messo a disposizione di mister Urbano, come Esposito e di Benedetto e di Lullo. Proprio il fantasista di San Martino in Pensili si tornerà a disposizione domenica dopo i due turni di squalifica, in quella che sarà una partita difficilissima contro la capolista Ancona. Segnali positivi arrivano anche in casa a Pentra, dove mister Califano è riuscito ad ottenere un filotto di pareggi, che fanno morale. La squadra inamichevole ha rifilato quattro gol al Pozzilli, dimostrando una buona condizione. I Pentri domenica ospiteranno il Celano, in una partita che i ragazzi di Califano devono necessariamente provare a vincere, per smuovere la classifica e per provare ad evitare i play-out sempre più vicini. In casa Isernia la telenovela acquisto di una punta sembra non finire mai. Infatti si è complicata la pista che conduce all'attaccante classe 1994 Scuola Juventus. Il calciatore ha chiesto qualche giorno di tempo per riflettere. La distanza tra Torino e Isernia potrebbe avere un ruolo chiave nella trattativa. Il DS Bianco Celeste, Dino Petrangelo, si sta già guardando intorno, ma resta chiaro il fatto che nonostante l'Isernia militi in Serie D, molti giocatori sono scettici sul trasferimento nel capoluogo Pentro. Questo perché la situazione societaria è debitoria e quindi non delle più rose. In eccellenza saranno tre gli anticipi della quinta giornata di ritorno, con tutti gli occhi puntati sulla capolista Campobasso che farà visita al Montaquila. Invece in promozione si giocherà solo Hermes Toro, Civitanova. Il servizio. In casa Campobasso sono ore di vigilia prima del match esterno contro il Montaquila, una partita che a vedere la classifica non dovrebbe riservare grandi sorprese e che all'andata è terminata con il punteggio tennistico di 6-0 per i lupi. I rosso-blusi presentano però all'impegno in piena emergenza infortuni, con Pignataro e Coradino ancora in box. Monti uscito malconcio dalla finale vinta con il Fornelli. Mister Farina in mezzo al campo ha poco da scegliere, molto probabilmente sarà Di Lallo ad affiancare Fazio in mediana contro i bianco-verdi del Montaquila. Altra senza pesante sarà quella del fantasista di Mirabello, Carmine Guglielmi, che proverà a recuperare per l'importante partita casalinga di Coppa Italia contro l'Avezzano. Il secondo anticipo nel massimo campionato regionale vedrà di fronte il Venafro con l'Alife, in una partita che vede favoritissimi padroni di casa. All'andata il match è terminato con una vittoria di misura dei Venafrani, ma a guardare classifica è stato di forma delle due squadre. Domani potrebbe esserci una vera goleada. Nel turno precedente il Venafro ha battuto per 1-0 la Virtus Possile, mentre l'Alife ha pareggiato per 1-1 con la Santeliana. Il terzo ed ultimo anticipo di giornata in eccellenza è quello tra la gioventù Calcio Dauna e Rocca Ravindola. Partita questa che all'andata è terminata 1-0 per i pugliesi, ma anche qui la Dauna potrebbe avere vita facile calcolando i 26 punti di differenza che separano le due squadre in classifica. Nell'ultimo turno di campionato la Dauna si è imposta sul Montenero per 4-1, mentre Rocca Ravindola ha perso di misura contro il buon sesto campano. In promozione l'unico anticipo di giornata vedrà come protagonista l'Ermestoro e il Civitanova in un duello da piani bassi della classifica. All'andata la partita è finita con uno scoppiettante 2-2 con le due squadre che nell'occasione si sono affrontate a viso aperto, come probabilmente sarà anche domani visto che entrambe non hanno nulla da perdere. La FIGC ha diramato gli abbinamenti della fase nazionale dopo che è stato delineato il quadro delle 19 squadre partecipanti. Il sorteggio per la Coppa Italia Nazionale ha previsto che i Lupi giocheranno l'andata al Romagnoli mercoledì e il ritorno sette giorni dopo allo Stadio dei Marsi. L'urna ha deciso con questo ordine la sequenza del doppio confronto tra il Campobasso e l'Avezzano per le ottavi di finale della Coppa Italia di Lettanti. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Vi lascio ora le previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. Previsioni del tempo per sabato 8 febbraio Sul Molise la perturbazione giunta ieri si allontana situazione che migliora ulteriormente nel pomeriggio ma dalla serata è atteso un nuovo aumento dell'instabilità sui rilievi ventilazione moderata dai quadranti meridionali mare generalmente mosso temperatura in aumento nei valori minimi stazionarie o in ulteriore lieve rialzo nei massimi andiamole a vedere nel dettaglio Campobasso minima 5 massima 11 gradi Isernia minima 7 massima 14 gradi Termoli minima 12 massima 14 gradi Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Il meteo è stato offerto da